Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre ai fatti vostri L'oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti dei fatti vostri La storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardi che va in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 18 ottobre 2018 Marte continua il transito nel segno dell'acquario I bambini che nascono in questi giorni saranno molto creativi e vivaci Da grandi daranno vita ad attività importanti Prima dell'oroscopo di Paolo Fox, Giancarlo Magalli, Gio di Tonno, Roberta Morise, il professor Umberto Broccoli e il colonnello Morico conducono giochi, interviste e interessanti rubriche Gio di Tonno e Roberta Morise, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Demo Morselli, si esibiscono spesso in suggestivi duetti Paolo Fox, Oroscopo di giovedì 18 ottobre 2018 Le previsioni L'oroscopo di Paolo Fox fa registrare ascolti record ai fatti vostri Paolo Fox assegna due stelle al toro che ha qualcosa da ridire oggi Punto in una fase rivoluzionaria della sua vita Deve liberarsi di qualche peso È molto possessivo Due stelle per il leone È molto pensieroso in questi giorni Grandi cose lo aspettano nei prossimi mesi Sente molto la competizione Ama il confronto Amore non al top Tre stelle per il capricorno Bel weekend Non deve rimandare i grandi progetti Se un lavoro, una storia d'amore non vanno è meglio chiudere Tre stelle per l'acquario Va meglio rispetto ai giorni scorsi Deve scaldare il cuore e provare emozioni Deve superare un piccolo problema sorto poco tempo fa Tre stelle per l'ariete Ha bisogno di maggiore equilibrio sul lavoro A novembre arriva un ottimo giorno Qualcosa si sta muovendo anche a livello sentimentale Tre stelle per i pesci Attenzione alle provocazioni Deve evitare complicazioni e allontanare le persone negative Oroscopo Paolo Fox Le previsioni di oggi 18 ottobre Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi dei fatti vostri Quattro stelle per la Vergine Da novembre cambia la situazione astrologica È una persona molto attenta e ciò che lo circonda Quattro stelle per la bilancia Bel cielo Saturno dissonante ma ogni cosa che fa la fa bene Non è il caso di avere rimpianti in amore Quattro stelle per lo Scorpione È un momento importante Bel cielo Il sole transita nel segno Ha una bella creatività Cinque stelle per i gemelli Successo personale Periodo favorevole Bene il lavoro Cinque stelle per il cancro È un buon periodo Fase migliore rispetto al passato Deve fare il punto della situazione Cinque stelle per il Sagittario Ha una grande voglia di evadere Di andare in vacanza Quando ha dei problemi vuole andare via Buona notizia in arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti.